ecco il profeta grande prof grandissimo come direbbe aldo di aldo giovanni giacomo mi che giornata sul casale spettacolo qui siamo sulla bicocca che andrà a parte del casale che va su casale va però effettivamente che guarda che roba se io penso un tempo queste sono temperature da ottobre queste sono temperature da ottobre oddio si ottobre inoltrato novembre dai comunque il mio segno 84 8.4 no ma quest'ora è perfetta e track comunque devo fare i complimenti a gabriele perché lui è l'unico che sui percorsi non fa mai storie e tra anche se non sono allenato